Non pensi sia da idioti andare in pensione ora? No, è il momento. Con il cavolo che è il momento. Forse è per te che è un problema. Ho iniziato lunedì mattina. Ero davvero sicuro che avrei superato la settimana di prova. Cosa poteva andare storto? Alla gente che ci dà lavoro, Pep! Gli stranieri fanno schifo! E se pensi di passare la settimana di prova, ragazzo, scordatelo. Oggi è il primo giorno, te lo dico subito, così lo sai. L'entecista! Diggi se sa cos'è un deviatore. Nel suo paese hanno soltanto gli interruttori. Il ragazzo ha lavorato solo due giorni e mezzo. Devi dargli una possibilità. Che cazzo? Perché fa così? Avete un telefono? Sono chiuso qui fuori! Fermo così? Che muscoli perfetti! Ho bisogno di qualcosa? No, no, niente. Sono stufo, basta. Un giorno intero per aggiustare un interruttore e una presa. E che cazzo? Sono sicuro che se ero uno di qui... Pensi che uno spagnolo lo trattavo meglio? No, no, io sono sempre uno stronzo con tutti. Grazie. Grazie.